Che cos'è la liquidità del mercato? Come si crea la liquidità sotto e sopra il movimento dei prezzi? Che cosa fanno gli istituzionari per creare, ingegnerizzare la liquidità e andarsi a prendere questa liquidità per potersi muovere? E come sfruttarla a nostro vantaggio? Lo scopriamo tutto questo nel video di oggi. Via! Eccoci qua ragazzi, benvenuti. Oggi video super importante, mi raccomando rimanete fino alla fine perché oggi andiamo a vedere dei concetti importanti di liquidità e di come sfruttarla per far trading e di come comprendere che cosa sta succedendo, cosa succede sui mercati e da che parte vogliono andare davvero i mercati. Così noi possiamo operare nella direzione delle, tra virgolette, mani forti e gli istituzionali, chiamatelo come volete. Prima di iniziare, due cose importanti. La prima, se volete parlare direttamente con me per scoprire il vostro percorso migliore per diventare trader professionisti piuttosto che fare del trading alla vostra seconda attività lavorativa, potete prenotare una call con me, gratuita, senza impegno. Sotto in descrizione vi metto il calendar, ci cliccate, prenotate la call e parlate direttamente con me nel primo slot disponibile. Vi chiamerò io e ci sentiamo, vi raccontate un po' la vostra storia, quello che volete fare. Io cercherò di indirizzarvi nel modo migliore per i vostri obiettivi. Seconda cosa, se volete mettere in pratica quello che vi spiego, quello che vi racconto, l'operatività strategie di trading senza rischiare i vostri soldi, cosa molto importante, potete farlo con i conti trading della nostra prop. Sotto in descrizione vi metto i link. Ci sono conti da 5 fino a 50k, potete scegliere quello che volete e in questo modo se perdete non perdete i vostri soldi ma se guadagnate vi portate a casa una parte dei profitti. Sotto in descrizione c'è tutto e per finire iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i prossimi video. Attivate la campanellina, condividetelo con i vostri amici nei gruppi Telegram e Whatsapp e commentate per dirmi la vostra, mettete like. Che fatica! E adesso possiamo finalmente iniziare. Va bene ragazzi, allora pronti, andiamo a vedere, siamo sempre sulla nostra amata AMD, non so perché ma ho saputo sempre un debole per AMD. Titolo tra l'altro molto amato anche dagli istituzionali, sappiamo che gli istituzionali non possono andare sui titoli azionari molto piccoli perché altrimenti non riuscirebbero a muovere, non avrebbero abbastanza liquidità per poter comprare e vendere senza spostare il mercato perché mettono ordini abbastanza grandi e quindi lavorano o sui future o sul forex che sono i mercati più liquidi che ci sono oppure possono andare sulle azioni a grande capitalizzazione, grandissima capitalizzazione molto liquide dove c'è molta liquidità come ad esempio AMD. Per cui oggi andremo a parlare della liquidità su AMD, chiaramente i discorsi che andremo a vedere oggi li potete trovare, li potete applicare su tutti i time frame, dal settimanale, mensile fino al minuto, orario, quello che volete e su tutti gli strumenti finanziari, dalle azioni a grande capitalizzazione piuttosto che future forex e quello che volete. Ok, pronti, liquidità, la liquidità è quella che sostanzialmente muove i mercati. Partiamo dal presupposto iniziale, gli istituzionali, i grandi tre, se tu fossi un istituzionale, un operatore che quando clicca buy o sell compra 10 milioni di pezzi, 5 milioni di pezzi, un milione di pezzi, devi comprare proprio valanghe di azioni o di contratti. Tu, che cosa faresti? Come faresti? Perché il problema degli istituzionali è che è vero che potrebbero andare a mettere ordini a mercato, ma è anche vero che se mettessero ordini a mercato dove non c'è tanta liquidità, dove non ci sono tanti scambi, se io volessi comprare un milione di pezzi adesso qui, devo trovare i venditori che me li vendono, ma se non ci sono abbastanza venditori, io comincio a comprare, pulisco il book, pulisco tutti gli ordini che ci stanno e vado sempre a prezzi più alti, quindi potrei andare a iniziare a comprare a 107, ma andrei a finire di comprare magari a 200, per dire, per estremizzare, perché il mercato funziona ad asta, quindi inizio a comprare, non ci sono più venditori che mi vendono a quel livello, devo continuare a comprare, devo andare sopra, e poi ancora più sopra, e poi ancora più sopra, più sopra, più sopra, concetto opposto quando devo andare a vendere, se non trovo controparte, se non trovo chi mi compra, io vendo a quel livello, finiscono i venditori, devo andare più sotto, più sotto, più sotto, più sotto, e vado a vendere a prezzi sempre peggiori, perché un conto se inizio a comprare a 107, un conto se finisco di comprare a 190, inizia a essere un problema, idem se vuoi andare a vendere, se devo andare a vendere a 107, un conto, ma se finisco di vendere a 63, è un altro conto perché pulisco tutto il mercato, e allora gli istituzionali, i grandi player in generale, che cosa istituzionali, per forza degli istituzionali possono essere anche grandi player, che cosa fanno? Devono andare un po' ad ingegnerizzare la liquidità, devono andare ad operare dove si crea, dove si forma più liquidità, e dove si forma più liquidità sui mercati? La liquidità, proprio un fattore psicologico, sia psicologico ma anche operativo, si va a formare dove si fa formare tendenzialmente sopra i massimi o sotto i minimi di un movimento, perché? Perché tendenzialmente massimi e minimi li vediamo tutti quanti nello stesso modo, no? Se io vado a mettere un indicatore, l'RSA, il Momentum, il MACD, quello che vi pare, le medie mobili, 100 operatori diversi che settano 100 medie mobili diverse, hanno tutti quanti livelli diversi di media mobili. Se noi qui andiamo a disegnare le trendline, un operatore la disegna in un modo, un operatore la disegna in un altro, 100 operatori diversi hanno 100 trendline diverse. C'è chi la disegna dai minimi, c'è chi prende i prezzi di chiusura, c'è chi prende un altro livello, vanno a disegnare ognuno un livello diverso. Quindi tutti i livelli dinamici, quelli lì lasciano un po' il tempo che trovano, mentre invece i livelli orizzontali, quindi supporti o resistenze, quelli sono uguali per tutti. Cioè io posso prendere 1000 trader diversi sparsi per il mondo, ma questo massimo lo vedono tutti quanti uguali, questo massimo è a 102,51 per tutti e questo minimo è a 80,97 per tutti. Non cambia nessuno. E lo vedono tutti, lo vedono istituzionali, lo vedono i grandi, lo vedono i piccoli, lo vedono i retail, lo vedono veramente tutti. Non c'è chi non vede questi due livelli. Poi chiaramente in base al time frame possono esserci più, ma questo qui, anche qui, su tutti i time frame dal settimanale in giù questo è un massimo, dal settimanale in giù questo qui è un minimo. Quindi la liquidità si va tendenzialmente a formare sopra i massimi e sotto i minimi. Quindi che cosa va a succedere? Ad esempio qui prendiamo proprio un grafico pulito dove non c'è niente, no? Qui abbiamo questo qui a un livello di massimo e quindi qui sopra tendenzialmente ci sarà liquidità, ci sarà liquidità di chi? Di chi ha operato short qui dentro che va a mettere gli stop da operazioni short. Stop da operazioni short che sono operazioni di riacquisto. Operazioni di acquisto sono operazioni buy, quindi qui sopra c'è liquidità in acquisto. Questo livello qui invece è un livello di supporto chiaro, quindi qui sotto che c'è? C'è liquidità in vendita di chi? Di chi ha comprato qui e mette gli stop sotto e chi ha comprato e mette gli stop sono ordini di vendita, quindi sell market, quindi vanno a mercato sell. Ma non solo, sopra e sotto ci sono gli ordini di chi si ricopre, di chi deve chiudere le posizioni che ha operato qui dentro, ma qui sopra ci sono gli ordini buy di chi vuole comprare quando i prezzi vanno qui sopra. Quindi qui sopra i trader che operano sulle rotture aspettano che i prezzi vanno sopra i massimi per entrare long. Entrare long vuol dire comprare, poi man mano che i prezzi salgono c'è chi si accoda il trend e quindi chi continua. Stessa cosa per chi opera short sulle rotture. Qui sotto si posizionano short i trader che operano al breakout, con degli stop magari dall'altra parte sopra. Quindi vediamo che si creano queste zone di liquidità dove ci sono tanti ordini in acquisto qui sopra e tanti ordini in vendita qui sotto. Ora se io sono un grande operatore che devo comprare e trovare tanta controparte, dove posso andare a comprare più facilmente? Posso andare a comprare più facilmente qui sotto. Se devo andare a vendere dove vado a vendere? Posso andare a vendere più facilmente qui sopra, perché qui sopra se vendo trovo tanta controparte che mi acquista, se compro qui sotto trovo tanta controparte che mi vende e quindi posso comprare grandi quantità di pezzi senza spostare troppo il mercato e quindi senza avere prezzi svantaggiosi, troppo troppo svantaggiosi. Ti piacerebbe guadagnare con il trading ma non hai abbastanza capitali oppure vorresti mettere in pratica le strategie e i concetti che trovi in questo canale o in tanti altri ma giustamente non vuoi rischiare di perdere i tuoi preziosi soldi. Bene da oggi puoi accedere a conti da 5k fino a 50k della nostra prop con i quali puoi fare trading senza rischiare di perdere i tuoi capitali ma se guadagni, guadagni soldi veri. Sotto in descrizione ti metto il link per approfondire e scegliere il conto che fa per te e a questo punto non hai più scuse, inizia subito a fare trading, ti aspettiamo, ciao! E allora qui rientrando nelle zone di liquidità, quello si sente parlare spesso di manipolazione del mercato, manipolazione del mercato che vuol dire? Vuol dire indurre i prezzi sotto quindi prima si ingegnerizzare la liquidità che vuol dire? Vuol dire andare a creare dei livelli, delle aree dove tutti quanti dicono oh bello lì c'è un supporto quindi me compro e metto lo stop lì sotto oppure c'è la resistenza quindi vendo e metto lo stop lì sopra quindi indurre le persone al mercato a posizionare gli ordini, a posizionarsi sotto quei livelli per poi prima ingegnerizzare la liquidità quindi crei queste zone di liquidità sopra e sotto dopodiché ti rimane che cosa? Ti rimane di aspettare o generarlo tu perché se hai la possibilità di spostare i prezzi quindi basta magari innescare, devi solo innescare il movimento quindi innescare la vendita e quindi far sì che da qui sotto iniziano a partire gli ordini e gli ordini in vendita ma questi che vendono al mercato chi glielo compra dall'altra parte? tutti che iniziano a vendere, se tutti iniziano a vendere i prezzi andrebbero giù ecco tutti che iniziano a vendere qui arriva invece l'istituzionale che ha ingegnerizzato la liquidità che ha indotto il movimento sotto i supporti a comprare quindi qui sotto inizia a comprare e comprando sostiene addirittura i prezzi sostiene addirittura i prezzi per poi rispingerlo dentro una volta che ha rispinto dentro i prezzi è game over perché? perché tutti quelli che hanno venduto qui che hanno aperto posizioni short hanno gli stop sopra e quindi adesso sono in perdita e cercano per ricoprirsi quindi per chiudere le loro posizioni in perdita e quindi ricomprare e comprando spingono i prezzi su chi si è ricoperto che ha chiuso le proprie operazioni long le ha chiuse qui sotto in perdita che cosa inizia a dire? cavolo però vedi i prezzi sono ripartiti quindi adesso mi riaccodo quindi iniziano a ricomprare va bene e quindi si genera domanda che spinge i prezzi giù quindi l'istituzionale di fatto ha ingegnerizzato la liquidità ha portato i prezzi qui ha spinto i prezzi qui sotto dove era più facile spingersi spingerli perché qui magari non c'era tanta liquidità tutti che sono andati a vendere ha comprato quindi qui si è creato fatto effettivamente l'acquisto grosso dopodiché il resto del movimento viene fatto dal mercato dalla reazione del mercato a questo movimento quindi lui è andato a comprare è andato a comprare qui e poi si chiuderà la posizione e sta facendo ognuno con i propri approcci con le proprie strategie ok? e questo si ripete in continuazione noi potremmo andarlo a vedere se ci fate caso infatti prima di un grande movimento c'è sempre una presa di liquidità noi potremmo vederlo anche qui in questa piccola area qui vedete che questo era un massimo i prezzi sono andati sopra il massimo a prendere liquidità e poi dopo sono scesi ora perché siamo sul settimanale lo vedi in un movimento molto piccolo però se noi già qua andiamo a prenderlo così e scendiamo magari sull'orario lo andiamo a vedere molto bene lo andiamo a vedere benissimo quindi vediamo quello che ha fatto il mercato spinto i prezzi sopra i massimi raccolta liquidità qui sopra e poi dopo è sceso però queste raccolte di liquidità questa formazione di liquidità prese di liquidità e poi partenza del movimento dall'altra parte le vediamo in continuazione le vediamo in qualsiasi in qualsiasi su qualsiasi time frame in qualsiasi condizione qui vediamo anche ancora minimo qui c'è il minimo i prezzi vanno sotto raccolta di liquidità e poi parte il movimento possiamo veramente possiamo possiamo trovarlo tante volte non sempre chiaramente però tante volte succede anche qui eccolo qui vediamo questo è il minimo due prese di liquidità qui sotto prezzi che vanno sotto raccolgono ripartono ci sono andati per due volte addirittura è stato quest'altro terzo tocco che non è andato che non è andato sotto e poi è partito il movimento rialzista anche qui raccolta di liquidità qui sotto e movimenti e prezzi che partono di nuovo raccolta di liquidità qui sotto e prezzi che partono ancora questa è un'altra presa di liquidità quindi prezzi che vanno sotto i minimi raccolta e rimbalzo altro questo è un esempio anche che avevamo visto in un in un precedente video e lo fanno così questo qui lo possiamo andare a trovare su tutti ripeto i time frame piuttosto che su tutti che su tutti gli strumenti gli strumenti finanziari qui ad esempio ristiamo ancora sul settimanale e vediamo e lo vediamo ancora anche qui eccolo qui si crea questo minimo tutti vedono questo minimo tutti quanti lo vedono come tutti vedevano questo massimo qui sopra raccolta di liquidità eccola prezzi che vanno giù rottura finta rottura dei minimi raccolta di liquidità prezzi che vanno su quindi tendenzialmente poi queste prese di liquidità vanno poi a generare dei forti movimenti dall'altra parte poi come sfruttarli ci arriviamo qualche stop si prendono si prendono sempre anche non c'è nessuna non c'è nessuna formula magica ma indubbiamente questo ci aiuta a capire dove vuole andare nel mercato e poi a fare la nostra la nostra bella operatività ancora di qua eccola presa di liquidità sotto e partenza questo qui lo possiamo trovare questo è il minimo presa di liquidità qui sotto e partenza eccolo qua anche qui ce ne sono due presa di liquidità e partenza presa di liquidità sotto e partenza non lo so quanto tempo volete andare dietro ma fatelo come esercizio a casa questo qui anche in questo caso lo andiamo a vedere bene qui minimo si crea questa zona questa zona di minimo qui sotto ci stanno gli stop loss i prezzi vanno qui sotto prendono gli stop raccolgono liquidità e poi creano questo movimento alto poi a livello operativo dobbiamo capire come sfruttarlo andare a sfruttare perché se noi qui stiamo sul settimanale sul settimanale notiamo questa raccolta di liquidità come come la sfruttiamo perché io ad esempio qui posso andare a vedere quando i prezzi intanto e quando è che ce ne accorgiamo della della raccolta di liquidità beh quando i prezzi fanno uno spike sotto i minimi e poi rientrano quindi non appena rientra quindi in una di queste due candele in cui sono sono rientrati da da sotto sotto il minimo se prendiamo proprio il livello il livello di minimo che è questo come i prezzi rientrano e quindi chiudono ti richiudono dentro perfetto da qui da qui possiamo andare a cercare ci possiamo andare a cercare delle delle possibili operazioni long poi come entriamo dipende ci sono ci sono infinite strategie da qui che i prezzi vanno giù e poi rientrano l'abbiamo visto sul settimanale poi non dobbiamo andarlo più a cercare sul nostro time frame operativo sul time frame operativo dobbiamo cercare l'operatività che sia aspettare un cambio di un cambio di struttura quindi un cambio un cambio strutturale che ne so aspettare i prezzi fanno fanno prima nuovi massimi quindi ad esempio qui rompono i massimi precedenti quindi qui c'è un cambio strutturale potrei andarmi a mettere non lo so un fibonacci su questo su questo movimento e entrare sul 50% di fibonacci con uno stop sotto i minimi poi l'operatività l'andiamo a vedere in altri in altri video fatemi sapere se volete vedere anche operatività di questo di questo tipo quindi si mettono gli stop sotto i minimi e poi non lo so rapporto rischio rendimento magari almeno su un 1 a 3 oppure uno può entrare alla prima candela come abbiamo già visto che supera chiude sopra i massimi chiude sopra i massimi precedenti con con volumi in aumento quindi che ne so mi viene a dire questa questa qui perché dopo rientro questa oppure questa con degli stop sempre sotto i minimi quindi entrare qui con gli stop sotto i minimi qui con gli stop sotto i minimi comunque sia le opzioni le opzioni ci stanno e poi aspettare che il mercato faccia il suo corso in questo caso non è detto che lo faccia in un nanosecondo i prezzi oscillano possono andare nella nostra direzione ma non lo fanno in un attimo quindi abbiamo visto il concetto di liquidità fate un po' le vostre analisi le vostre prove e vedete vedete un po' quindi mi raccomando massimi e minimi doppi massimi doppi minimi tripli massimi tripli minimi quelle sono sempre delle situazioni interessanti dove possono essere sopra e sotto raccolte di raccolte di liquidità anche qui ne vediamo qualcuno questo massimo qui sopra hanno raccolto liquidità questo minimo qui sotto hanno raccolto hanno raccolto liquidità e così via mi raccomando poi sempre mettete in pratica possibilmente su conti demo quindi prima fate la vostra esperienza oppure direttamente nella nostra nella nostra prop dove se perdete non perdete ma se guadagnate una parte dei profitti ve li mettete in tasca proprio in termini reali sotto in descrizione c'è il link c'è il link anche per prenotare una call direttamente con me per sapere che percorso seguire per diventare dei trader professionisti o per fare del trading la vostra seconda fonte di reddito e quindi potete prenotare una call gratis e senza impegno sotto in descrizione iscrivetevi ragazzi per non perdervi tutti i prossimi video condividetelo con i vostri amici nei gruppi telegram whatsapp e dove vi pare mettete like commentate sotto e noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao